e ci sarebbero tante cose di dire non so quante riuscirò a dirne perché è stata una partita che ho vissuto abbastanza intensamente e in questa partita dal finale dolce con una epilogo che poteva essere amaro perché quell'espulsione lì di teo veramente ci ha tagliato le gambe perché fino a lì la Roma, non mi ricordo grandi occasioni a parte della scuola di Mourinho ma partendo dall'inizio, Roma che aspettavo pericolosa, aspettavo guardinga, aspettavo che ripartisse aspettavo confiammate di zaniolo, pellegrini, degli strappi quasi individuali per poi andare a concludere nel primo tempo parte all'inizio l'occasione di zani pellegrini subito poi il Milan si è messo giù bene il capo, preparata molto bene secondo me con questa costruzione fissa a tre, gli esterni larghissimi e praticamente la linea dei trequartisti, dei mediani, di un mediano e dei di Ibra quasi in linea con la Roma, no? che faceva tappariente e costingeva la Roma a mettersi in due linee di pressione oggi niente, non riesco a fare il video e detto ciò, oh niente, oggi non riesco a farlo detto ciò, il Milan che poi inizia bene e riesce a a trovare e riesce a trovare tante trame diverse tra di loro a volte va direttamente con l'imbucata e terzino per esterno, diciamo, me ne ricordo diverse a volte taglia per l'interno con Ben Nasser che va tra le linee che ha superiorità in mezzo con Ibra che esce e gli esterni che si inseriscono comunque il Milan bene bene, va in vantaggio con un bel gol di Ibra su punizione e partita fin lì veramente in totale controllo ora la Roma ha avuto due contropiedi ma poi niente e non ti veniva neanche a prendere alta quindi tu potevi gestire tranquillamente e anche nel secondo tempo soprattutto con un rigore che per me, visto quelli che hanno dato in questa Serie A si può dare anche perché il contatto c'è e con due gol annullati uno nel primo tempo uno nel secondo uno a Ibra bellissimo quel gol di petto che si porta avanti e tira e l'altro a Leao fanno sì che il Milan non riesca a portarsi in vantaggio subito poi lo fa con che sì che bene c'è un rigore e niente così dopo il rigore c'è stato un attacco del Milan diciamo più a gestire anche con i cambi che poi sono stati di Ibra mi pare subito e poi si sono stati fatti dopo l'espulsione di Ternandez che ha conseguito diversi cambiamenti poi il niente oggi il video oggi il video sono io che tossisco e bevo quindi va così oggi vabbè niente e detto ciò il Milan va avanti 2 a 0 partito in totale controllo la Roma a 0 tiri in porta nel primo tempo un paio forse su nel secondo ma centrali niente idee trame offensive così e niente c'è da dire che poi l'espulsione cambia la partita c'è da dire anche questo c'è da dire che l'arbitraggio è stato direi non non a altezza della partita perché la partita è stata intensa tanti ribaltamenti di fronte niente oggi va così e quindi troppi gialli rosso su un fallo della Roma tanti gialli al Milan quello su Ibra non l'ho ancora capito tra l'altro ha provato il godo per l'esultanza di Ibra che ha suscitato questo sintomo di di razzismo nei tifosi giallorossi non tutti ovviamente ci mancherebbe e ciò espulsione giusta il fallo non era punire però il il fallo di Krunic su Krunic prima è evidente e lì cambia la partita il Milan si mette tutte le prendenti entra in Cea e gira un abbandonato a se stesso e lì la partita cambia e niente il Milan prova a difendersi basso ci riesce subisce un gol che forse è inevitabile però vabbè lì palla lì se difende a un metro se rimane lì la palla colpisceva in porta quindi bene ma a parte quello non mi ricordo grandi occasioni forse quel tiro di Zagnolo contrato da da Chiere basta detto ciò niente il Milan veramente bene tutti bene Pioli nella preparazione bene i centrocampisti bene Chessi bene Ben Nasser mi è piaciuto molto Chiere tu amori ottimi hanno annullato Abraham tre in tre quarti la Roma ha fatto veramente poco quindi bene Calabria Teo purtroppo lo devo bocciare perché cioè ci fa quasi perdere punti oggi una partita che era tranquillamente nei binari giusti diciamo e ci penalizza il derby che giustamente ci andiamo con il nostro tra rigore del giocatore più forte no quindi niente però bene tutti Ibra sontuoso fa gol rigore procurato e fa quasi assist ad un altro gol per un fuorigioco minuscolo quindi bene tutti contento di questa vittoria testa al porto oggi non ha giocato Brahim Diaz quindi speriamo giochi mercoledì scusate per il video ma ho avuto la voce oggi in difficoltà sarà per le urla che ho avuto durante la partita detto ciò vi saluto vi saluto iscrivetevi al canale lasciatevi a condividere il video ciao ragazzi